Ciao a tutti, sono sempre Rosalba, vi sto parlando dal bagno sempre, che stavo spazzando, stavo facendo due servizi, allora ho detto fammeli sentire, che voglio vedere se per caso sono rimasta impressa qualcuno, ci sono state le persone che mi hanno detto che oggi con internet si possono fare tantissime cose e quindi io ci provo, sono qui così in attesa, però non ho molto tempo perché comunque il mio lavoro mi impegna tantissimo, è un lavoro che ci metto tantissima passione, mi piace proprio tanto e quindi non lo so se nel caso posso al limite tornare a fare l'attrice, cosa che faccio sempre, non ho mai mollato, solo questione di tempo che proprio non ce l'ho perché mi veramente mi prende tantissimo, ho il mio lavoro che faccio, la pulizia qui all'ortigia nelle case, quindi niente insomma, però mi hanno detto fai dei video su internet perché oggi si usa a fare queste cose particolari, moderne, siccome sono una ragazza giovane insomma, quindi ho detto vabbè facciamo questi video perché pare che ci siano delle persone che insomma mi seguono già, sono dei fans, quindi ci tenevo ecco, niente insomma, continuo a fare le mie pulizie, do una spazzatina pure in camera che sono qui e niente insomma, poi vediamo un po' per il prossimo video che cosa vi posso dire insomma, va bene, ciao ciao, grazie mille, ciao a tutti, ciao